Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Acce. Il modello è in scala 1 a 8, l'edizione è a scette, l'uscita è la numero 73. Ricordo che per il completamento di questo modello sono previste 120 uscite. Andiamo a dare un'occhiata per quanto possibile perché qui c'è il mio gatto tigrato che ha circa tre anni ad agosto, fa tre anni, un tigrato europeo che si chiama Michelangelo, ciao amore mio, ha deciso di mettersi qua. Guardate qui andiamo tra il numero 73 e quello che seguirà dopo il numero 74. Andiamo a collegare, se non tutti i tubi, quasi tutti i tubi volanti che abbiamo all'interno del motore, per cui mi raccomando amore cosa stai facendo? Fate attenzione a quanto vi faccio vedere, sarà difficoltoso anche per me riuscire a inquadrare bene e spiegarvi tutti i punti dove vanno inseriti i tubi. È spiegato nelle istruzioni però si può anche sbagliare, quindi fate attenzione. Io vi ringrazio che mi scrivete i commenti però gran parte delle vostre domande che mi fate le risposte le trovate nei video. Mi raccomando sono video molto lunghi perché c'è da spiegare veramente, diverse cose sono da spiegare, quindi se volete seguirmi seguitemi, altrimenti se mi farete domande le quali risposte come ho appena detto sono contenute dei video io vi riporterò al video. Ragazzi mi raccomando, intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il mio cuore, alle persone non iscritte sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Abbiamo il montaggio della prima parte della paratia parafiamma, ecco qui, abbiamo dei finti tubi, questo è un pezzo in plastica verniciato, abbiamo quattro tubi di gomma, due di ugual misura, anche se in realtà misurandoli li vedrete un po' più corti, uno un po' più corto dell'altro, però sono uguali, ecco, potete anche tagliarli e farli identici, vedete voi, e poi altri due di sezione più inferiore, eccoli qua. Ricordatevi, questo è riferimento F e poi abbiamo questi due relais, si differenziano tra di loro solo per un foro e ricordatevi che quello che è il foro è il C, dove all'interno andremo a mettere uno di questi tubi. Una serie di viti AP, dove vai amore che mi rovesci tutto il cubo, vita mi aspetta qua, cosa vuoi fare, vuoi stare lì, ok, ha deciso di stare lì. Dicevo quindi una serie di viti AP, ecco qui, e poi abbiamo questo, che è questa, che è la carenatura della paratia antincendio, cosa vuoi fare, procediamo subito con una vite AP, aspetta, scusatemi ragazzi, deciditi per amore mio, dai, ok. Mi creo il filetto, senza usare nessun lubrificante. Ecco qui, questa la metto così e lo inserisco nell'unica posizione possibile. Bene. Fatto questo, prendiamo il relè che non ha il foro, una vite AP, e mi creo il filetto anche qua. Non serve arrivare fino in fondo, e lo mettiamo qui sulla parte esterna. Addrizzatelo, perché lo potete fare, e poi stringete. Adesso, guardate, prendiamo il relè forato, eccolo qui. Poi andatevi a cercare la vite che avete, perché ce l'ho anch'io, lo avete anche voi, la VP, poi trovate anche la vite BM, nei montaggi vecchi, e la vite VP l'ho avvitata qui. Eccola. Loro ci dicono che possiamo fare un nodo, ed è vero, decidete voi, ragazzi. Se volete fate un nodo, altrimenti semplicemente fate come vi ho detto io. Per aiutarvi, prima di mettere la vite, inserite uno stuzzicadente all'interno, lo fate entrare in profondità, lo lasciate qualche minuto, lo sfilate e avvitate. Bene. A questo punto andiamo a inserire questo qui. E spingo la testa della vite, perché deve rimanere all'interno. Bene. Fatto questo, prendo un'altra vite AP, faccio quello che ho fatto prima nell'altro relè, inserisco e avvito. ecco qua. Adesso prendete delle viti BP, che avete trovato nei montaggi precedenti. e le avvitate qui. appena appena appena. Così. E poi... inseriamo prima una qui e poi l'altra nell'altro foro. la faccio arrivare a filo-tubo. Troppo. e avvito. avete visto? faccio la stessa cosa con questo. e avvito. tenete fermo il tubo dietro con il dito pollice e il dito indice e avvitate. spingete la vite. ecco qui. i tubi sono perfetti. adesso non mi rimane che mettere l'ultimo di questo montaggio inserito qui. inserisco questo e prendo una vite BM. queste viti che sto usando per inserirle nei tubi di gomma non sono presenti in questa uscita. ve l'ho già detto. in questa uscita troviamo solo le viti AP. queste. allargo il tubo. inserisco la vite. una volta avvitata tutta la vite fino alla fine del collo del tubo in gomma spingo delicatamente. e questo è il risultato. il montaggio del numero 73 è terminato. eccolo qua. non abbiamo strozzature dietro anche se non si vedono però così il lavoro rimane sicuramente più pulito. e adesso cari ragazzi non so quanto durerà questo video ma spero di riuscire a fare un video con tutte e tre le uscite. quindi la 73 che ho appena montato la 74 e la 75. voi mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. e se le volete dare un'ulteriore mano di aiuto perché il canale possa crescere condividete i video nei gruppi dedicati. grazie. adesso qua bisogna fare veramente attenzione. caro stefano mi raccomando non diventare matto. con calma si riesce a fare tutto. io adesso prendo il collante. sapete che io uso incollarmi tutti i tubi con un collante epossilico bicomponente. va bene qualsiasi colla. non usate l'ATTAC e non vi devo più spiegare le motivazioni per le quali vi sconsiglio di usarla perché l'ho detto più e più volte. vado a prendere la colla un attimo. intanto vi faccio vedere il contenuto del numero 74 che è la seconda parte di montaggio della parattia parafiamma. abbiamo tutti i pezzi in plastica nessun problema. questo lo userò per mescolarmi la colla. all'interno troviamo un tubo lungo che io ho già diviso in quattro sezioni. due vanno tagliati a sei centimetri e ricordatevi che il tubo da sei centimetri verrà sempre riconosciuto nell'illustrazione come il 74F1 e poi le ultime due sezioni tagliate a cinque centimetri un centimetro in meno di quello che abbiamo appena visto e questo è il 74F2. ok? detto questo prendete degli stuzzicadenti perché vi saranno molto utili all'interno troviamo questo questa che è la pompa dei freni questo è il coperchio inferiore della pompa dei freni il motorino del terci cristallo questo è il ripartitore dove andremo a inserire i tubi di sezione più larga ma anche quelli di sezione più fine questi qui due serie di viti HP e AP AP e HP tutte e due da avvitare nella plastica non usate nessun tipo di lubrificante mi raccomando primo passaggio ve l'ho già detto andatevi a creare le quattro sezioni come vi ho detto prima poi prendiamo questo e andiamo ad unirlo qua sopra fate attenzione a non rompere i perni chiamati pin fate attenzione ok fatto questo guardate prendiamo il tubo più lungo da 6 cm eccolo qui e andiamo ad inserirlo qui il tubo più corto da 5 cm lo inseriamo qui adesso però è arrivato il momento di prepararmi la colla questa colla ha la proprietà di diventare diciamo come posso usare un termine scusate mi sto ridendo perché sto pensando e sicuramente avete capito anche voi solida ecco diventare solida se viene mescolata nel giro da di 3-5 minuti ma se io uso una parte di una e una dell'altra senza farle mai toccare ovviamente questa non diventerà mai dura quindi prendo un po' di questa colla e un po' di questa possibilmente in parti uguali perfetto vado ad unirle io vi faccio vedere tutti i passaggi non mettete la colla sul perno altrimenti quando inserirete il tubo riuscirà tutta la colla intorno come un collarino ed è bruttissimo andiamo a metterla qui vi ricordo che questo qui è da 5 centimetri e questo è da 6 centimetri bene a questo punto prendiamo una vite ap perfetto e vado a crearmi il filetto qui e vado a montarmi questo pezzo ecco qua sarà un filmato molto lungo già lo so ma ricordatevi quanto vi ho detto se deciderete di mandarlo avanti non mi fate poi domande perché tutto contenuto nel filmato quello che dovete sapere centrate bene questa e abbiamo fatto questo lavoro adesso prendiamo un'altra vite ap che dobbiamo andare a unire il motorino di avviamento oh chiedo scusa il motorino del tergicristallo ovviamente non è il motorino di avviamento lo abbiamo già montato ecco qui bene adesso prendiamo un'altra vite ap e andiamo a fermarci il motorino del tergicristalli alla paratia paracalore ecco qui ecco qui allora questo deve andare così ma dove lo sto mettendo ah qua deve andare ecco ecco è davvero ricchissima di particolari questa forza in Torino e abbiamo fatto anche questo adesso prendiamo l'altro tubo lungo da 6 cm giriamo questo così e andiamo a posizionarlo nella parte alta di questi due fori in questa maniera anche questo vi dicono di legarlo decidete voi cosa fare ma io se vi ricordate vi ho detto di unirvi di stuzzicadenti guardate non vi fate male alle dita mi raccomando non vi bucate taglio appena appena la punta inserisco e spingo questo ovviamente cosa fa fa aumentare la sezione del tubo che non riuscirà più a uscire ecco qui a questo punto una volta presa la misura giusta lo sfilo e taglio il mio stuzzicadenti a filo del tubo di gomma ecco qui inserisco e spingo perfetto questo non esce più un attimo che guardo dove sono arrivato bene adesso prendendo l'ultimo tubo da 5 cm che c'è rimasto prendiamo questo pezzo qui e lo giriamo così e dobbiamo andare inserire questo qua probabilmente questa colla che ho mescolato prima sarà già dura e infatti non mi serve più e preparo dell'altra non ci sono problemi ok 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 Grazie. Quindi abbiamo detto, guardate bene, così. Prendiamo un'altra vite AP, attenzione qui a non rompere i perni, mi raccomando. Questo pezzo è molto delicato ed è facile danneggiarlo. Non abbiate mai fretta. Il montaggio deve essere un piacere, non uno stress. Prendiamo questo così e andiamo a metterla qui. Guardate. Così. Perfetto. Perfetto. E' difficile spiegare. E' tutta un'altra cosa. Allora, io comunque ho già preso due viti HP e sono andato a crearmi il filetto qui. quelle sono le viti che manterranno in posizione l'apparatia. Loro ci dicono già di montare tutto. Io sinceramente non so se faccio bene a consigliarvi di non farlo subito perché sicuramente è più semplice andare a inserire i tubi qui e qualora non si riuscisse basta svitare la vita da dietro e la andiamo a inserire. Però cominciamo e vediamo cosa ci fanno fare. Allora, la prima cosa ci dicono di andare a fissare questa lì e io proverò a non farlo. Voi fate quello che volete, ok? poi prendiamo questo tubo qui che esce dal relè e deve essere inserito guardate in questo foro qui così io lo faccio passare tutto sotto e faccio la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima. inserisco, taglio un po' la punta sempre dello stuzzicadenti, inserisco questo all'interno e taglio a filo attenzione che non tagliate i tubi perfetto proviamo a tirare, vediamo se esce altrimenti lo mando più dentro no, non esce più perfetto e così siamo sicuri abbiamo fatto questo poi se ci danno fastidio perché andavano passati sotto i cavi parlo dei cavi elettrici non ci sono problemi andiamo a staccare e a unirli sopra ai fili non vi preoccupate ma sicuramente io lavoro meglio così adesso andiamo a vedere anche la figura numero 16 allora guardate prendiamo intanto tutti questi fili perché dobbiamo metterli poi qua dietro adesso prendiamo questo tubo guardate bene che è quello da sei centimetri questo 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 qui quello più vicino alla paratia e dobbiamo andare a inserire l'estremità di questo tubo qui guardate su questo perno adesso ingrandisco un attimo su questo primo perno qui nella pompa dei freni ok abbiamo il primo perno poi ne abbiamo un altro libero e poi qua abbiamo un tubo inserito noi dobbiamo inserirlo nel primo vi spiego tutto così perché io quando andrò a inserire ovviamente non sarà così semplice per me inquadrare ma vi ho già detto dove va inserito il tubo quindi anche se io non riuscirò come sicuramente sarà a fare delle inquadrature perfette avete già capito dove va inserito quel tubo faccio un po' di colla anche quest'altra è diventata solida eccezionale questa colla ora siamo è qui è qui qui ci ricordatevi quello che vi ho detto non importa se intreccerete i cavi elettrici vi basterà staccare gli spinotti e metterli in maniera ordinata alla fine quindi state tranquilli bene adesso prendiamo l'altro tubo questo che è rimasto libero il primo vedete l'unico che è rimasto libero e andiamo a inserirlo qua nell'unico perno che abbiamo a disposizione quello centrale allargo un po' ok e anche questo lo abbiamo fatto adesso passiamo alla figura 18 e adesso attenzione perché dobbiamo lavorare sulla pompa della benzina quindi andiamo a prendere vi faccio vedere nel riquadro di zoom si vede benissimo questa che trovate vicino al filtro dell'olio quello bianco avete il tubo esterno destro questo evidenziato col cerchietto giallo che è libero libero vuol dire che è attaccato qui ma è libero nell'altra estremità vado quindi ad estrarlo eccolo qui e quanti tubi che ci sono eppure tutto questo a me piace eccolo qui perfetto questo è il tubo quello che vi ho fatto vedere prima questo tubo deve andare pizzicato qua sotto guardate e che la colla non mi è diventata ancora solida comunque con l'ingrandimento ve lo faccio vedere guardate qui abbiamo questo tubo disegnato quello che indico con la punta del cacciavite sulla paratia ok non riesco a vedere niente un attimo ragazzi eccolo qui questo che quando arriva in fondo abbiamo un forellino qua questo tubo va inserito in questa mezzaluna qua sotto che avete nella paratia quindi prendo lo stuzzicadenti io cerco di spiegarvi tutto non so come verrà questo filmato ma più di questo io non riesco a fare con calma si fanno le cose e si fanno bene metto quindi questo stuzzicadenti così mi creo il fermo quando poi andrò a pizzicarlo sotto la paratia taglio a filo non vi fate male vedete ok a questo punto però provo ad avvitarmi la paratia e vediamo se è il caso poi la svito e mi vado a levare la la pompa da qua ma vediamo intanto prendo tutti i fili tutti parlo di quelli elettrici ovviamente vedete questo lo stacco e lo vado a riattaccare dopo che avrò fatto passare tutto ho tirato troppo non erano ancora asciugati i due tubi li sono sfilati ma non è un problema mi aggiusto io lì non è un problema l'importante è che io vi abbia spiegato dove vanno correttamente inseriti ecco qua portiamo indietro tutto così bene questo vado a rimettermelo qui adesso andiamo a fissare questa la paratia però facendo attenzione a una cosa molto importante nessuno dei fili deve essere pizzicato tra la parte rossa e la parte nera quindi attenzione vi ho detto tutto dicendovi questo dovete fare attenzione i fili vanno passati tutti dietro trovate voi la giusta collocazione sto svitando le due viti HP che vi ho fatto vedere prima che ho usato per filettare qua c'è poco da parlare dovete fare attenzione a non pizzicare nessuno dei fili elettrici e dei tubi anche così è perfetto posso fissarmela questo modello è meraviglioso l'ho detto tante volte e non mi stanco di dirlo perché è la verità non dovete preoccuparvi per il fatto che c'è tanto da montare e quindi è complesso è proprio la complessità che rende i modelli particolari perché hanno tutto quello che neanche vi potreste immaginare allora vediamo se qui ho pizzicato qualcosa sotto no però svito prima questa e avvito anche questa così bene posso stringere adesso un attimo che mi vado a incollare i due tubi di nuovo perché purtroppo non ho dato tempo ecco vedete parlando mi sono dimenticato di pizzicare questo sotto quindi metto pausa e questo va dove c'è la mezzaluna sotto una volta che mettete lo stuzzicatenti dietro prima di stringere lo fate entrare stringete e lui non si muoverà più ok ci vediamo dopo bene guardate ho rimesso i tubi e io li ho messi così il tubo sotto della pompa della benzina lo vedete qui inserito dove gli ho detto adesso siamo alla figura ve lo dico subito numero 19 prendiamo il tubo che esce dal ripartitore quello che abbiamo messo vi faccio vedere questo questo attaccato qui sopra e queste estremità non vi confondete con quest'altro questo qui sul ripartitore questo è il ripartitore queste estremità dobbiamo andarla inserire in questo perno qui argentato ok quindi lo allargo un po' con uno stuzzicatenti provo a metterlo senza colla e poi ovviamente lo sfilo e metterò la colla avete visto perché non volevo mettere la parattia tutto mi sarebbe stato più semplice però vediamo dai adesso dobbiamo fare attenzione perché non dobbiamo spingere se prima non andiamo a contrastare questa linguetta qui dietro argentata dove c'è il perno altrimenti spezziamo assolutamente la staffa ecco si è inserito correttamente non so se si vede questo adesso io metto pausa mi preparo la colla e metto la colla e ci vediamo dopo cerco di fare il video non ulteriormente lungo ragazzi per questo motivo adesso sempre lavorando in questa zona dove abbiamo appena inserito questo tubo poco più avanti abbiamo la pompa della benzina questo tubo qui aspettate comunque non vi potete sbagliare vedete la posizione questo tubo qui c'è la pompa della benzina argentata questo va inserito nel ripartitore adesso vi faccio vedere nel pin quello centrale che è questo guardate questo qui abbiamo messo il primo tubo qui adesso andiamo a metterlo al centro qua quindi quindi il senso discorso lo metto prima così vi faccio vedere poi metto pause metto il collante incollatevi tutti i tubi non lasciateli inseriti così poi io ve l'ho detto il modello ovviamente è vostro ecco lì ok metto la colla ci vediamo dopo allora ragazzi attenzione ho commesso un errore ma insomma nulla di grave me ne sono accorto meno male è semplicissimo cioè l'ultimo tubo che vi ho fatto mettere se non ricordo male è questo guardate non vi preoccupate perché ripeto non è successo nulla ecco quello che va inserito qui lo sfilate lo sfilate che avevo messo questo guardate vi ricordate quello che usciva fuori dalla paratia invece no dobbiamo prendere questo del ripartitore vi faccio vedere abbiate pazienza ma c'è veramente tanto e spiegarvi mi fa anche distrarre molte volte perché devo guardare come dirvelo e come inquadrare allora guardate la parte superiore questa del ripartitore va qui nella parte argentata adesso vi faccio vedere qui con questo perno adesso metto pausa e lo metto solo quello tutto il resto è perfetto abbiate pazienza ecco qua ragazzi guardate questo tubo qui il ripartitore inserito qui quello invece che esce dalla paratia vedete questo va inserito in questo perno in questo perno qua blu sto cercando di vedere come indicarvelo eccolo lì adesso ve lo faccio vedere guardate la punta della pinzetta qui sotto c'è un perno eccolo qui questo tubo va inserito in questo perno quello blu mi raccomando ragazzi non mi fate mille domande perché ve lo sto facendo vedere è qui sotto ok adesso metto pausa e poi vi faccio vedere dove l'ho inserito guardate ragazzi la soluzione migliore che si possa fare è quella di levare la farfalla sopra il filtro svitare la vite sfilare delicatamente il filtro e andare ad inserire il tubo nella maniera più semplice che è questo eccolo qui avete visto così avete visto ragazzi guardate che meraviglia a disposizione dei tubi vado di nuovo a rimettere tutto dì ascoltiamo così se Adesso siamo al disegno numero 22. Abbiamo quasi finito. Dobbiamo occuparci del tubo della pompa benzina. Qua ci sono le grandi manovre. Il tubo della pompa benzina, guardate, è questo. Questo che avete qua sotto. Eccolo qui. Vedete perché vi sottolineavo sempre. Mi raccomando, incollatevi i tubi. Se vi si stacca questo, cosa fate? Andate a smontare tutto per incollarlo? Quindi prendiamo questo e dobbiamo andarlo a inserire, guardate, nell'unico foro libero che abbiamo sotto questo tubo qui. Qui sotto c'è un foro. Eccolo qua. Vedete la punta della pinzetta? Quindi prendo il tubo, lo inserisco. Ecco qui. Lo tiro. Lo tiro così. Prendo lo stuzzicadenti e faccio la stessa cosa che ho fatto dalle altre parti. Quindi taglio un po' la punta. Allargo il foro. inserisco dal lato dove ho tagliato un po' la punta. Taglio a filo. Attenzione a non rovinare il cruscotto. Ok. E tiro di nuovo. Tanto lui non esce più. Ecco qua. Se è troppo lungo non ci sono problemi. Lo fate un po' scorrere a seconda come vi piace più a voi. Ecco, in realtà così forse è meglio. Lo fate scomparire dietro. Tanto questa parte dietro non si vedrà ovviamente. Ecco qui. Così. Stavo pensando se... Vediamo un po' come rimane se lo tiro di più. Meglio così. Meglio tirarlo ancora. In realtà è molto lungo il tubo. Però io ho messo la sicurezza. In questo caso non serve neanche perché il tubo va veramente in fondo. Però sai, dovreste mettere le dita, mai sfilarlo inadvertitamente, così non vi uscirà di sicuro avendo messo lo stuzzicadenti dietro. Così è molto meglio, di sicuro. Ok. Fatto questo, vediamo cosa rimane da fare. Adesso prendiamo uno di questi due tubi perché dobbiamo andare a inserire l'estremità di questi due tubi. Prendiamo quello più esterno, quindi questo qui, guardate bene, questo. Questo è quello verso il motore, no? Questo qui. E andiamo a inserirlo qui. Vi faccio vedere. questo perno qui. Dove c'è la punta del cacciavite. Così. Ok. Metto la colla. Mi raccomando, ragazzi, se avete piacere, non dimenticatevi di iscrivervi. Perché la mia sola passione non basta a mandarmi avanti. Bene. Questo l'abbiamo fatto. Se è troppo lungo vi basta tagliarlo, in realtà così non mi piace un granché a me, eh. Troppo lungo questo tubo. No, 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 no. Assolutamente questo tubo è troppo lungo. Io lo taglio. per forza. Vi dico subito. Io lo vado a tagliare. Non fate quello che faccio io se non volete farlo, ma così non mi piace. Quindi... lo accorcio a 4 di 4 centimetri. Non mi piace così. Assolutamente. troppo lungo. L'ho accorciato di 4 centimetri e 2, ma 4 va bene. Ecco qui. Assolutamente no, perché era veramente troppo lungo. Così. Ecco. Adesso sì che mi piace. Infatti nella figura si vede più corto. così è lunghissimo. Poi mi è rimasto l'ultimo tubo. Meno male sia per me che per voi. Meno male. Allora. Il secondo andiamo a inserirlo, che è quello chiaramente l'unico rimanente. Questo qua va inserito qui, guardate. Sotto la ventola, dove c'è questo tubo qui, abbiamo questo foro. Quello che vi indico con la punta del cacciavite. Non si vede, eh? E lo so, l'avevo lasciata a molle io questa, per arrivare meglio qui. Così vedete meglio. Ecco qua, guardate. Questo foro qui. questo tubo deve inserirsi lì. Quindi mi sembra veramente strano, ma come fa a inserirsi lì questo tubo? Sono sicuro di quello che sto dicendo? Ah, ecco. Scusatemi ragazzi, non lì, non lì. Scusatemi. Assolutamente mi sembrava. Deve andarsi a inserire in quest'altro qui. Te lo faccio vedere da qua. Eh, non è semplice. Ecco. Questo tubo qui, questo tubo, questo foro qui, vedete? Questo si leva? No. Vediamo un po'. Facciamo passare così. Quello poi l'aggiusto io. Ma non entra mica dentro. Un momento che metto la pausa e vedo come risolvere. Un attimo solo. Guardate ragazzi, io più di questo non riesco a fare. Non era neanche lì che andava il tubo. Ho dovuto per forza togliere questo per riuscire sia a vederlo. Vedete, questo era qui. Per riuscire sia a vederlo che a inserirlo. E infatti questo va messo qui. Ecco. Che io trovo lunghissimo. Non mi piace. Quindi lo accorcerò di 3 cm. Voi fate quello che volete. Ma io lo taglio a 3 cm. O meglio. Lo taglio di 3 cm. E ecco. ecco decisamente meglio mi piace molto di più anche perché già così vi dico la verità sono veramente lunghi i tubi se non li avessi tagliati sarebbero andati a battere sul cofano sopra poi quindi adesso metto pausa vi vado a mettere la colla qui mi rimonto tutto e ci vediamo dopo per l'ultimo tubo che è questo che vi dico subito che va inserito qui in questo foro dietro la batteria inserisco il tubo così lo vedete bene ecco avete visto bene come vi ho appena detto metto il col metto lo stuzzicadenti a questo perché tanto mi esce di qua guardate questo lo posso fare subito con voi che mi guardate così non cercate mai di adirizzare le ruote senza agire sullo sterzo perché c'è la crema ieri dentro ed è impossibile poterlo fare rovinate tutto adesso tiro più su questo non escerà mai ecco qui se è troppo lungo lo mando più in giù nessun problema così e adesso vado a incolarmi questo mi monto tutto e poi prendo l'uscita numero 75 che è molto semplice e poi ci salutiamo con questo ultimo filo messo qui abbiamo concluso il montaggio del fascicolo numero 74 adesso numero 75 comunque è stata lunga però spero di esservi stato d'aiuto a parte quell'errore che ho commesso ma non è semplice ve lo garantisco riuscire a spiegarvi tutto guardando attraverso un telefonino ecco qui piera sinistra primo montaggio prendo una vita ap abbiamo la seratura e il nottolino della chiave con la vita ap mi creo il filetto qua dietro facendo attenzione a non rompere il perno questo più sottile sinceramente spiegarvelo meglio di come ve lo abbia spiegato non so fare ragazzi sbagliare è impossibile quindi fate attenzione allora inserisco la serratura nell'unica maniera possibile molto carina che bella bene e poi non mi rimane che inserire questo guardate che qui abbiamo uno scasso lo scasso è questa parte qui che viene ricavata vedete questo segmento e quindi questo si può inserire solo in una maniera perché dietro abbiamo questa parte qui che va inserita nello scasso che vi ho appena fatto vedere vediamo di allargarla un po' l'entrata appena appena ecco 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 perfetto ovviamente deve rimanere perfettamente in verticale così anche se io la vedo un po storta però si possono inserire così ma si va bene solo Michele se ne accorge per cui va bene ecco qui abbiamo finito anche questo questo è quello che abbiamo montato perché siamo insieme io e voi siete parte integrante del canale guardate che meraviglia il musetto perfetto bene ragazzi sono un po stanco è perché non è stato semplice spero di avervi aiutato nel montaggio un abbraccio a voi e un saluto un saluto a tutti i vostri cari più cari mi raccomando date un'occhiata alla playlist perché ci sono tante cose e altre ne arriveranno ciao a tutti e grazie sempre del vostro tempo